Carissimi amici e amiche, bentornati al nostro appuntamento mensile del primo mercoledì del mese con il ciclo di Catechesi San Giuseppe Fuori di Padre. Questa sera è giunta la sesta puntata che sarà la penultima o l'ultima a seconda di come procediamo, perché il paragrafo sesto, come vedremo, affronta un argomento molto notorio per quanto riguarda la persona di San Giuseppe, cioè il suo essere lavoratore, un argomento ordinariamente, ripeto, noto e fedeli, già ampiamente approfondito, mentre il settimo paragrafo, a mio avviso, è tra i più interessanti di questa lettera del Papa in occasione dell'anno di San Giuseppe, insieme ad un altro che abbiamo già visto, insomma, a mio avviso quello sul significato grande della verginità di San Giuseppe, che sarà poi ripreso anche qui, un aspetto molto molto particolare, insomma, un'intuizione, una lettura a mio avviso molto molto interessante che va approfondita. Quindi, ricordo, insomma, abbiamo visto le parti precedenti, le puntate precedenti, faccio un bellissimo riassunto, dato che siamo un pochino, ecco, avanzati. Il primo paragrafo era dedicato al padre amato, il secondo al padre nella tenerezza, il terzo al padre nell'obbedienza, il quarto al padre nell'accoglienza e il quinto, che abbiamo visto la volta scorsa, il padre dal coraggio creativo. Oggi dovremo affrontare il padre lavoratore e, un paragrafo molto breve, ripeto, ma anche relativo ad argomenti nuovi, e poi il settimo ed ultimo paragrafo, che è quello appunto denominato padre nell'ombra, che, ripeto, contiene, a mio avviso, degli spunti molto interessanti. Procedo subito con la lettura, in modo tale che non ci perdiamo troppo in preamboli e andiamo subito al cuore del discorso di questa sera. Un aspetto che caratterizza San Giuseppe e che è stato posto in evidenza sin dei tempi della prima enciclica sociale, la Verum Novarum di Leone Tredicesimo, e il suo rapporto con il lavoro. San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il panno frutto del proprio lavoro. In questo nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a rappresentare un'urgente questione sociale e la disoccupazione raggiunge da loro livelli impressionanti anche in quella nazione dove per decenni si è vissuto un certo benessere, è necessario, rinnovata, con sabbiavolezza, comprendere il significato del lavoro che dà dignità e di cui il nostro Santo è esemplare patrono. Il lavoro diventa partecipazione all'opera stessa della salvezza, occasione per affrettare l'avvento del regno, sviluppare le proprie potenzialità e qualità, mettendola a servizio della società e della comunione. Il lavoro diventa occasione di realizzazione non solo per se stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario della società che era famiglia, una famiglia dove mancasse il lavoro è maggiormente esposta a difficoltà, tensioni, fratture e perfino alla tentazione disperata e disperante del dissolvimento. Come potremmo parlare della dignità umana? Senza impegnarci perché tutti e ciascuno abbiano la possibilità di un regno sostentamento? La persona che lavora qualunque sia il suo compito collabora con Dio stesso, diventa un po' creatore del mondo che ci circonda. La crisi del nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale e spirituale, può rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore e l'importanza e la necessità del lavoro per dare origine ad una nuova normalità in cui nessuno si è escluso. Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso, fatto uomo, non ha disdegnato di lavorare. La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelli e che è aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di Covid-19 deve essere un ritiamo a rivedere le nostre priorità. Implodiamo San Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare strada che ci impegnino a dire, nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro. Vediamo i temi di questo paragrafo, è ovvio che non possono essere altro che questi, come però accennavo sono alcuni ampiamente affrontati, altri di evidente e lampante, ecco, attualità, sappiamo tutti bene quello che è successo in occasione delle problematiche connesse al Covid-19. Mi permetto semplicemente di sottolineare, di evidenziare, con la visione altamente cattolica del lavoro, che qui evidentemente è ribadita. Il lavoro è un compito affidato da Dio all'uomo e di questo si trovano, tra l'avere un nuovo arum in poi, una montagna di documenti che ne parlano e molti dei quali vanno a confluire in quello che si chiama tecnicamente il Magistero Sociale della Chiesa, che affermano che il lavoro non è soltanto una nobilitazione dell'uomo né soltanto, come dire, una conseguenza, il lavoro penoso, ci dice il libro della Genesi che è la conseguenza del peccato dell'uomo, il lavoro faticoso. Non è semplicemente un mezzo per garantire il proprio sostentamento, anche se questo è un aspetto certamente non secondario, perché per campare di aria non si campa, detto proprio in termini molto prosaici, però si ricorda che il lavoro è una partecipazione ad un compito divino, che è quello appunto di elevare, trasformare e santificare il creato. Sappiamo che la santificazione del lavoro e nel lavoro costituisce una componente essenziale della vocazione dei laici. Non mi imbarco adesso in problematiche di questo genere, però vorrei di nuovo, appoggiandomi anche alle parole appena ascoltate, e alla figura di San Giuseppe, ricordare che il lavoro è realtà santificante e da santificare, proprio del carisma della secolarità, che è quello dei laici. In tante riprese, qui accenno soltanto, io mi sono permesso insomma di formulare un mio modesto punto di vista, in cui negli ultimi anni c'è stato un pochino, a mio avviso, di equivocazione, ecco, sull'autentica promozione dei laici e valorizzazione del ruolo dei laici, anche nella Chiesa. A mio modestissimo avviso, questo non consiste nell'acquisizione progressiva, come dire, di sempre maggiori compiti e responsabilità, come dire, ecclesiali collegate, diciamo così, al culto, alla liturgia, a quello che potremmo un pochettino chiamare in senso ampio il Tempio, cioè un laico è promosso, quindi diventa un grande laico, se legge in Chiesa, se diventa ministro straordinario della comunione, se è maschio diventa pure diacono permanente, d'accordo? Adesso sappiamo che anche i ministeri laicali sono stati, come dire, aperti anche alle donne, cioè io, per carità, quello che la legge della Chiesa mette in atto, si rispetta e personalmente io riterrei maggiormente tipico del carisma proprio di un laico di valorizzare il suo ruolo nel mondo e non soltanto all'interno della Chiesa, cioè il mondo noi l'abbiamo quasi completamente perso, i laici hanno loro il compito di essere sale, luce e lievito, perché i ministri sacri devono aiutare i laici a farlo, addirittura i religiosi e le religiose stanno fuori di questo contesto, quindi lasciano il mondo, come si diceva nella teologia classica, per cominciare da qui a vivere la vita nel cielo, per dare questo segno, diciamo, così forte al mondo, ma qui il mondo, quando torna il cristianesimo nel mondo, se quei pochi cristiani, diciamo così, che sono un pochino più formati, che ci tengono un pochino di più, come dire, si ingolfano in una serie di montagne di attività, per carità, utili, buone, ma fondamentalmente paratemplari, non saprei come definirle, e magari, non dico trascurano, ma non valorizzano abbastanza quegli ambiti propri del carisma e della segualità, di questo ne parla la Lomengenzio, insomma, come ho detto io, la famiglia per esempio, no? No, la famiglia, il lavoro, la vita sociale, la vita culturale, ma anche la vita politica, dove sono i cristiani doc in politica? Doc, d'accordo? Ecco, quindi, va bene, quindi, sotto il punto di vista della santificazione del lavoro è chiaro che San Giuseppe è un grande esempio. Adesso veniamo a questo paragrafo che, veramente, io quando ho letto questa lettera mi è venuto proprio in mente di fare un ciclo di catechesi per arrivare proprio a quest'ultimo paragrafo, perché contiene, a mio avviso, delle, come dire, delle suggestioni molto importanti, e su cui vorrei fermarmi, quindi procedo subito con la lettura. Padre nell'ombra. Lo scrittore polacco Jan Dobrzinski, non so, in polacco non sono molto ferrato, è una delle lingue che non conosco, quindi non so se l'ho conosciato bene, nel suo libro L'ombra del padre ha narrato in forma di romanzo la vita di San Giuseppe. Con la suggestiva immagine dell'ombra definisce la figura di San Giuseppe, che nei confronti di Gesù è l'ombra sulla terra del padre celeste. Lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai da lui per seguire i suoi passi. Pensiamo a ciò che Mosè ricorda a Israele. Nel deserto hai visto come il Signore tuo Dio ti ha portato come un uomo porta il proprio figlio per tutto il cammino. Così Giuseppe ha esercitato la paternità per tutta la sua vita. Adesso attenzione, padre non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa perché ci si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. Ripeto, tutte le volte che qualcuno, poi lo commenteremo, si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. Nella società del nostro tempo spesso i figli sembrano essere orfani di padre. Anche la chiesa di oggi ha bisogno di padre. E' sempre attuale l'ammunizione rivolta alla San Paolo e Corinzi. Potreste avere anche 10.000 pedagogi in Cristo, ma non certo molti padri. E ogni sacerdote o vescovo dovrebbe poter raggiungere come l'apostolo. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. E ai Gala ti dice figli miei che di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi. Essere padri significa introdurre il figlio all'esperienza della vita, alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà e di partenze. Forse per questo, accanto all'appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di castissimo. Non è un'indicazione meramente affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del possesso. Attenzione, la castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando un amore è casto è veramente amore. L'amore che vuole possedere diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici. Dio stesso ha amato l'uomo con amore casto, lasciandolo libero anche di sbagliare e di mettersi contro di lui. La logica dell'amore è sempre una logica di libertà e Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo se stesso al centro, ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua vita Maria e Gesù. Finisco la lettura del paragrafo e poi su queste cose mi fermerò a lungo, come potete immaginare. La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del dono di sé. Non si percepisce mai in quest'uomo frustrazione, ma solo fiducia. Il suo persistente silenzio non contempla la mentele, ma sempre gesti concreti di fiducia. Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell'altro per riempire il proprio vuoto, rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio con servidismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distruzione. Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé che è la maturazione del semplice sacrificio. Anche nel sacerdosio, nella vita consagrata, gli hanno chiesto questo tipo di maturità. Lì dove ha una vocazione matrimoniale, celibataria o virginale, non giunge alla maturazione del dono di sé fermandosi solo alla logica del sacrificio. Allora, invece di varsi segno della bellezza e della gioia e dell'amore, rischia di esprimere infelicità, tristezza e frustrazione. La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei figli spalanca spazia all'inedito. Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può essere rivelato solo con l'aiuto di un padre che rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare la professione educativa e di vivere pienamente attenzione alla paternità solo quando si è reso inutile, quando vede che il figlio diventa autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita. Quando si pone nella situazione di Giuseppe, il quale ha sempre saputo che quel bambino non era suo, ma era stato semplicemente affidato alle sue cure. In fondo è ciò che lascia intendere Gesù quando dice non chiamate padre nessuno di voi sulla terra perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare la paternità dobbiamo sempre ricordare che non è mai esercizio di possesso, ma segno che rinvia ad una paternità più alta. In un certo senso siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe. Ombra dell'unico padre celeste che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ombra che segue il figlio. Bene, dopo c'è la conclusione che leggeremo presumibilmente al termine di questa puntata che vedo che ci abbiamo un pochino di tempo per commentare, sarà l'ultima, però questa parte della lettera a mio avviso è spettacolare, altamente formativa. Allora, c'è anzitutto, certamente c'è questo romanzo di questo autore polacco che dà l'ispirazione, l'ombra del padre. Attenzione, questi concetti, il Papa lo spiega, si applicano ai preti, ai vescovi, ai religiosi e ai padri e per estensione anche alle madri reali. Cioè, cosa significa avere autorità sul prossimo? E come si esercita? I passaggi relativi anche alla castità. Pensiamo alla rinevanza, cioè, di queste idee sulla riscoperta della castità prematrimoniale. E rimando alle cateviesi che sto facendo nel ciclo della sana potrina cattolica l'altro giorno, che siamo proprio casualmente arrivati proprio a questo argomento, no? La castità prematrimoniale, la castità coniugale, matrimoniale. San Giuseppe è il castissimo, ma è il modello di tutte le forme di castità e la sua peculiare castità e il modo con cui l'ha vissuta diventa criterio di comprensione anche del valore e dell'importanza di questo aspetto. Allora, qui il termine... Allora, ci sono alcuni passaggi che ha. Numero uno, questo vale anche per noi, io questo lo posso testimoniare, eh? Padre non si nasce, lo si diventa. Se mi è permesso una testimonianza, io adesso comincio a sentire di avere un cuore di padre, ma non solo perché ho 50 anni, ma perché ho imparato. Prego chi ascolterà, quelle poche persone che ascolteranno queste riflessioni, di avere sempre, se possibile, tanta pazienza con i parroci giovani o di primo incarico. Io ci sono passato. Un parroco non è nato parroco, a meno che non ci abbia delle grazie straordinarie, non sia nato già santo, beato lui, votarsi che queste cose sono successe a me, che sono il peggioro di tutti e agli altri non succedano. Ma non è buono all'inizio, cioè non lo sa nemmeno che significa la paternità spirituale. Io dico sempre, un parroco al primo incarico è come un padre al primo figlio. Non ne ho un'esperienza reale, no? Ma al racconto, sento l'esperienza di chi figli ce l'ha avuto, cioè un fratello e una sorella, insomma, oppure io, che hanno i figli, no? Ma poi si vedono alcune cose, no? Vedendo alcune reazioni dei miei familiari, cioè al primo figlio, diciamo la verità, generalmente i genitori sono proprio esauriti, insomma. Nel senso che fanno delle cose veramente esagerate, cioè viste dall'esterno. E poi al terzo, al secondo, al terzo figlio riconoscono pure loro, che col primo hanno esagerato, insomma. Quindi, allora, padre si diventa, non si nasce. E tantomeno per quanto riguarda chi è padre, anche biologico, essere padre, ma anche essere madre. Perché è vero che madre c'è certa estra, ma siamo sicuri che tutti coloro che hanno con dolore partorito un figlio sanno fare le madri? Un padre, può succedere anche di peggio, insomma, che c'è i figli sparsi in giro, specialmente se vive disordinatamente, e sa ma cosa vincere. D'accordo, ma non si diventa padre perché si è messa al mondo una creatura, ma perché ci si prende, attenzione, responsabilmente curati lui. Quindi, attenzione, responsabilmente che significa? Cioè, mi assumo la responsabilità della tua vita. Attenzione, non significa che io dovrò fare le scelte per te. No, dovrò decidere per te. No, no, no. Il Papa qui fa un discorso abbastanza condiviso oggi, retorico, condiviso da montagna, insomma, di gente, ma non è che ci vuole una scienza infusa, no? Con tutto rispetto, insomma, per... Spesso i figli sembrano essere orfani di padri. Oggi i padri non ci stanno più, eh. E non soltanto i padri reali. Oggi non ci stanno più anche i padri spirituali. Se mi posso permettere, ce lo diceva in continuazione, ormai venti anni fa, l'attuale Cardinal Petrocchi, quando ci faceva i discorsi a noi giovani seminaristi, o giovani preti, ci diceva, oggi nella Chiesa non ci stanno i padri spirituali. Non perché non ci stanno i preti, ma perché non basta essere prete per essere un buon padre spirituale. Assolutamente. E' una cosa molto delicata, è una cosa molto difficile, ci vogliono delle attrezzature, molte preti che si improvvisano a fare questo tipo di delicatissimo ministero, pur essendo in ottima fede, pur essendo animati da ottime intenzioni, su questo non si discute, né si può mai discutere a priori, ma bisogna sempre concederla, ma se tu non hai interiorizzato alcune cose, fai più danni che cose positive. Qual è un grande errore di qualcuno che fa in un certo modo la paternità spirituale? Attenzione, assecondando perfettamente la condizione del figlio. Attenzione, l'idea del figlio, pensiamo alla seconda lettura di domenica scorsa, non avete ricevuto uno spirito da schiavi, ma uno spirito da figli. La libertà dei figli di Dio, no? Lo spirito da figli. I figli sono liberi, attenzione, sono soggetti al padre, attenzione, ma non sono schiavi, sono liberi. Cioè uno schiavo, che cosa fa uno schiavo? Uno schiavo esegue degli ordini. Il padrone ha detto così? Se va così, punto e basta. Il figlio non si comporta così. Il figlio riceve delle indicazioni, ma il padre dà quelle indicazioni motivandole, perché il figlio deve farle sue e deve poi essere capace di agire senza il padre. Questa espressione, io spero di parlarmela a memoria perché me la devo rivendere a vita, è tutta questa. Si vive pienamente la paternità quando si diventa inutile. Tu non hai più bisogno di me. Io dico sempre alle persone, sapete cosa si vede, quando, se e come si vede, se un parroco ha fatto una cosa buona in una parrocchia, ha fatto qualcosa di buono, quando, quando se ne va? Quando se ne va? Se ha trasmesso qualcosa. Come vivono i fedeli quando il parroco se ne è andato? Qua si capisce subito, se i fedeli hanno vissuto il rapporto con il parroco, alcuni non sono fino a uno proprio, però io vi posso dire che l'esperienza, dopo un po' di tempo che uno sta in parrocchia, cioè si vede che le persone, a forza di, come dire, di sentir parlare, ogni parroco ha delle priorità, quindi ha un imprinting, ha uno stile, no? E questo è inevitabile. Che cosa succede? Che col passare degli anni tu cominci a vedere che un pochino passa di quello che tu trasmetti, un pochino, perché oggi è dura. Allora, però attenzione, che cosa è passato? Cioè, mi è arrivato Don Valentino, Don Valentino c'ha sta fissa, d'accordo? C'ha sta fissazione, che non so, è fissato con la Caritas, quindi tutti quanti a fare servizio nella Caritas, sta presso, Don Valentino se ne va, la Caritas parrocchiale chiude. Ecco, questo è esattamente il fallimento del sacerdone, perché se chi viene dopo, che è Don Nicolino, non è così sensibile al tema del, tutti sono sensibili, cercare di capire quello che sto dicendo, no? Ci sono delle priorità, però, no? Magari è più sensibile all'adorazione eucaristica. E quindi, allora, però la Caritas non muore, perché se quei fedeli hanno ricevuto la trasmissione di un valore, cioè l'importanza del servizio ai poveri, dell'accoglienza, dello stare vicino aiuto, tutto quello che volete, anche se il suo successore di quel parroco non è così sensibile, il parroco dice, eh padre, qui c'è stata la Caritas, noi continuiamo, andiamo avanti, e la portano avanti da sola, non c'è bisogno che il successore, perché quella è una cosa acquisita, quel parroco che se n'è andato è diventato inutile, perché quella particolare sensibilità verso i poveri è stata trasmessa, e l'hanno interiorizzata perché? Perché quando c'è qualcuno che non ha quella stessa sensibilità, la vivono lo stesso. Capito? Io vi posso fare una confessione, cioè, a distanza ogni tanto io guardo, come dire, da vicino o da lontano, persone che conosco, persone con cui anche, come dire, c'è stato un tipo di relazionalità spirituale, perché voglio vedere proprio se a certe cose ci arrivano da soli dopo tanto tempo, magari mi conoscono, non soltanto senza che io gli dico niente, perché adesso ci arriviamo a questo punto, cosa devi fare un padre a meno che non si tratti, capito? Cioè, un padre o un figlio deve dirgli che le canne non se le deve fare, d'accordo? Questo è evidente, poi glielo spiega perché, quindi attenzione, in ordine a ciò che è bene o male, le indicazioni devono essere chiare, nette, ma nella vita non c'è soltanto il bene e il male bianco e nero. Ci sono tante altre cose e su queste tante altre cose un buon padre non decide per il figlio, ma insegna al figlio come si decide, a decidere lui. Io questa cosa, prima di leggere questa lettera, l'avevo capita molto bene, da qualche anno, da qualche anno e chi mi conosce sa bene che sotto questo punto di vista, io adesso non, cioè, sapeste quante mail, quante cose ricevono, allora, sapete no? Qual è il punto di ogni situazione? Che cosa devo fare? C'è questo problema, mi dici che cosa devo fare? Io non lo faccio mai! Non solo non lo faccio perché non lo voglio fare, ma perché non lo devo fare. Quello che faccio è, guarda figlio mio, mi parli di questa cosa? Bene, questi sono i parametri, d'accordo? Questi magari sono i pro, questi sono i contro, verifica la situazione in cui ti trovi, a volte mi si chiedono cose personali, cioè, io la prima cosa rispondo e dico, figlio mio, figlio mia, a numero uno, io non conosco la situazione concreta perché nella maturazione di un giudizio non ci sono soltanto i principi, ma devi anche vedere, d'accordo? Vi faccio l'esempio di una domanda tipica. C'è un collega di lavoro o un parente che si sposa al comune. Ci vado o non ci vado? Te lo dico io questo qui. Ma attenzione, né in un senso, né in un altro. E personalmente, pur rispettando tutti, allo stato di maturazione attuale, io mi sento di non approvare chi gli dice vai al matrimonio oppure non andare al matrimonio. Perché questa non è una cosa assoluta. Nel dire vai al matrimonio o non andare al matrimonio, è chiaro che tu ci metti una parte di te, cioè, dare quella cosa, dire quella cosa, è quello che faresti tu al suo posto, attenzione, senza mai conoscere le circostanze, no? Per cui una scelta in una direzione o in un'altra, in certe circostanze, è miciliare. Ah, tu ti dici, guarda, nell'andare le cose in causa sono queste, d'accordo? Questi sono i valori che si salvaguardano e questi sono i rischi e i pericoli. Nel non andare queste sono le cose che si salvaguardano e quelli sono i rischi e i pericoli. Tu che cosa pensi, anzitutto? Vedi verso cosa ti senti inclinato? e poi pondera pro e contro di ogni scelta alla luce delle circostanze concrete in cui vogliono vivere. Non posso decidere io per te. Non solo non posso, ma non devo. Perché tu oggi chiedi, oggi chiedi, capite? Cioè, alimentare una cosa di questo genere significa non formare dei figli, ma creare, involontariamente ovviamente, ma degli schiavi. Degli schiavi. E' proprio dei figli di Dio maturare una capacità critica di discernimento, di farsi un'idea propria. Pensate a tutte quante le problematiche, non vi dico, connesse ad alcune cose attuali, di Dio, di Dio, di Dio. Cioè, ma sapeste quante volte, capito? Cioè, arrivano mail o non mail, dico, alt, dico, questa è la situazione, d'accordo? Da un punto di vista morale, questa è la questione, da un punto di vista esistenziale, quest'altra è la questione. Dopodiché, tu devi decidere. Quando ci sono delle cose morali, un prete deve dare delle indicazioni morali. Cioè, se tu mi chiedi è peccato o non è peccato e si tratta di una cosa certa su cui si sa che è peccato o non è peccato o su cui la Chiesa è intervenuta, il prete è tenuto a dirla, questa cosa qui. Tu mi chiedi se è peccato o no, se me lo chiedi, ti dico, bene, questo è peccato e questo non è peccato. Ma ripeto, non sempre le cose si, come dire, si, si possono concepire in questa alternativa. Formare un figlio significa ecco perché Gesù dice non chiamate nessuno padre sulla terra in senso stretto. D'accordo? Perché quello che molti chiedono ai padri visibili debbano chiedere al nostro Signore. Cioè, io non faccio quello che mi dice un uomo. Io faccio a qualunque costo quello che mi dice Dio e a Lui devo arrivare. Anche attraverso l'aiuto dei padri visibili. Non so se mi spiego. perché avete un solo padre celeste perché a Lui solo bisogna obbedire. Tutti gli altri padri e quei padri siete adottati l'autorità comprese quelle ecclesiastiche compreso il padre spirituale compreso il parroco sono padri in quel passo del Vangelo tanto quanto sono figli che decodificano correttamente il volere dell'unico padre. capite? Ma noi non possiamo dare come dire un'adesione apodittica assoluta ad ogni cosa. Attenzione perché mi sono sformato tanto? Perché in questo tempo questo comportamento è ancora più forte c'è sempre stato gli uomini vanno sempre in cerca del punto di riferimento del leader di qualcuno abbiamo visto anche nel corso della storia ma come hanno fatto ad andare al potere con il consenso popolare dei dittatori? Come hanno fatto? Perché c'è gente che è andata dietro perché nel dittatore quindi nel super leader carismatico capito? Cioè c'è un fascino che d'accordo? Via! A fiotte! Questa tendenza non va alimentata un grande padre aiuta il figlio ad imparare ad esercitare la libertà che Dio gli ha dato la libertà è la cosa più preziosa che ci abbiamo e in questi tempi più che mai dobbiamo dirlo non c'è niente che valga tanto quanto la nostra libertà non soltanto la libertà esterna d'accordo? Quindi le libertà costituzionalmente garantite che sono state sacrificate in questo tempo che abbiamo vissuto e che molti si cominciano a arrabbiare sì anche queste ma la libertà ancora più grande è quella interiore è la libertà critica è la libertà di farsi un giudizio è la libertà di assumere non discernimento è la libertà di andare contro pure mezzo mondo se io sono convinto in coscienza davanti a Dio che una certa scelta è giusta io quella cosa la difendo certamente rimango sempre aperto non si diventa rigidi o provocatori io sono aperto io oggi ho maturato questa convinzione se qualcuno mi aiuterà mi darà dei suggerimenti aprendomi altre prospettive la cambio ma non la cambio perché me lo dice imponendomelo qualcuno o perché l'ha detto quella certa persona che ha una certa autorità io non approvo per niente mi perdonatemi personalmente è una cosa personale mi sento insomma libero di poterlo dire non faccio nome e cognomi ma non approvo quando un'autorità che abbia un forte ascendente o un forte seguito su questioni che non sono come dire ripeto di fede o di morale dica facciamo così o facciamo colare io ho delle forti dei forti proprio sulla base di quello che ci abbiamo detto perché perché se tu hai quel peso molte persone faranno quello che tu dici senza riflettere senza riflettere è diverso che tu possa dire dai delle indicazioni e poi dici probabilmente potrebbe anche essere la cosa migliore questo ma devi sempre presentarla in modo tale che non non leghi la persona che se dovesse fare il contrario ah sono andato contro quel gran praticatore ah sono andato contro quello che dice padre X ah sono andato contro il vescovo ah sono andato contro il papa eccetera eccetera quindi non cioè si si perde ti ripeto se ci sono delle cose fondamentali non si discute d'accordo ma sulle cose che non sono fondamentali proprio su quelle cose che toccano la libertà interiore toccano le scelte di vita io penso che un ottimo servizio deve essere quello di suggerire dare criteri di discernimento questo è essere padre perché quella persona deve fare una scelta che è la sua deve essere una persona libera noi dobbiamo oggi più che mai aiutare le persone a vivere la libertà dei figli di Dio San Giacomo dice la legge perfetta è la legge della libertà siamo stati chiamati a libertà certamente San Paolo aggiunge subito la libertà non significa un pretesto per vivere secondo la carne siccome sono libero mi abbandono alla vita immersa nei vizi sfrenati perché sono libero San Paolo aggiunge a nessuno è stato il permesso di peccare però anche nel proporre la legge divina cioè è chiaro che Dio il permesso di peccare non lo dà a nessuno ma non proibisce come dire materialmente cioè non è che ti metti in galera cioè gli uomini se vogliono fare un peccato allora possono fare non lo devono fare Dio non lo approva non lo autorizza e non è contento ma non impone di non farlo cioè non impone violentemente autoritativamente scavalcando la libertà dell'uomo la paternità che rinuncia attenzione alla tentazione di vivere la vita dei figli di vivere la vita dei figli e almeno questo capita a me quando io vedo un figlio che in una certa situazione sta facendo una scelta che ritengo sbagliata non gli dico niente e mi dico a me stesso non l'hai educato bene non sei stato un buon padre perché se io gli dicessi fai così lui lo farebbe per l'ascendente che ho ma non glielo ho detto ha fatto il contrario perché 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 non ha interiorizzato il lavoro non ha imparato a fare discernimento da solo questa è colpa mia non glielo ho insegnato io mi sento così e non è una cosa bella questa qui cioè noi nella vita dobbiamo camminare con le gambe nostre cioè il nostro appoggio certamente le gambe nostre non è che diventiamo come dire ma il nostro appoggio profondo chi è chi è quello su cui proprio noi ci appoggiamo quello che è veramente il punto di riferimento delle nostre è Dio è Dio è Dio e ripeto un buon padre insegna come si vive dinanzi a Dio a prendere le proprie scelte dinanzi a Dio ecco veramente adesso riprendiamo quando non si fa così vedete l'essere castissimo di fatto cosa cosa si sta facendo si possiede una persona tu la stai possedendo la vuoi per te ci sono anche dei ricambi gratificanti perché è molto gratificante che qualcuno ti dì la soddisfazione ha ha fatto quello che gli dico io quindi io sono qualcuno attenzione questi sono meccanismi sottilissimi questo vale anche per la vita familiare attenzione è tale e quale dice la castità è la libertà dal possesso non mi appartieni io mi dono a te ma tu non ti prendo cioè un matrimonio quando è che funziona quando un matrimonio è una donazione totale reciproca non è che l'uno possiede l'altro no no è un incontro tra un due forme di donarsi totalmente per cui uno si appartiene all'altro ma non lo possiede questa è la castità è bellissima questa questa immagine allora perché la castità prematrimoniale perché tu non sei una cosa mia il fidanzato non appartiene alla fidanzata ok non è suo non può stare con la fidanzata come se fosse il marito o la moglie perché non lo è e perché la castità coniugale perché c'è anche la castità coniugale per lo stesso motivo perché io non mi vado a prendere quello che non è mio non ti chiedo ciò che non si può perché io anche dentro questa realtà dentro la realtà della vita coniugale non mi metto come padrone o come possessore ma mi metto sempre come figlio che riceve dal signore come dire l'attrezzatura e l'abilitazione per vivere questo non come possesso ma come dono dicevo che in una recente catechesi forse proprio uno di scorso cioè quando due conogi stanno bene sarebbe molto importante che ciascuno si chiedesse ma io mi sento amato da lui o da lei oppure mi sento posseduto usato usato un termine un po' forte no ma fondamentalmente don amato cioè preso perché ti possa capito perché possa perché tu possa stare un po' bene attraverso di me non che io stia bene attraverso di te guardate che queste sono cose molto molto profonde i discorsi di questa sera sono profondissimi ma attenzione che queste sono le cose basi la nostra vita è fatta così chi è il castissimo è Dio perché Dio ci ama con amore casto Dio ci lascia liberi di sbagliare di fargli una guerra di metterlo in croce di andare all'inferno capito ma che non ci rendiamo conto ci rendiamo conto quindi quando si ama veramente si lascia libera la persona che sta vicino lasciarla libera non significa abbandonarla non aiutarla per carità essere padre significa prendersi cura significa prendersi la responsabilità di un altro ma non coartarlo manipolarlo condizionarlo comandarlo no questa non è la paternità che noi conosciamo questa non è volontà di Dio e un altro aspetto l'ultimo che approfondisce qui attenzione la differenza tra il dono di sé e il sacrificio attenzione il dono di sé presuppone il sacrificio nessuno che non è disposto a sacrificarsi è capace a donare se stesso ma il dono di sé trascende il sacrificio perché perché il dono di sé entra nella logica della gioia dell'amore mentre il mero sacrificio è soltanto fatica sforzo quindi una persona che si sacrifica molto ma non è arrivata al dono di sé nell'amore e tu la vedrai sempre arrabbiata oppure dice io ho fatto questo ho fatto tanti sacrifici ho fatto tanti sforzi questa è la ricompensa non c'è niente certamente per carità c'è un bene oggettivo no è comunque sia meglio una persona che si è sacrificata per il bene degli altri piuttosto che una persona che è egoista questo è evidente ma non stiamo ancora nel mondo di Dio Gesù si è sacrificato non lo so se non si è sacrificato ma dice San Tommaso qual è la cosa importante che ha fatto Gesù più importante l'andare in croce o l'amore con cui è andato in croce lo scrive San Tommaso la risposta è l'amore con cui è andato in croce ecco la differenza tra il dono e il sacrificio no mai esercizio di possesso il figlio deve diventare autonomo e saper camminare da solo i genitori quando è che sono contenti quando i figli si fanno una grande vita e quando è che i figli non si fanno grande cioè sappiamo bene quando un figlio fa una brutta vita questo ve lo dico per l'esperienza io non ho i figli naturali ma ci parlo con i genitori di figli naturali anche se forse non si vuole ammettere i genitori sentono il colpo pensano che hanno sbagliato in qualche in qualche cosa non sempre è così non necessariamente è così ma qualche volta potrebbe essere come noi preti siamo chiamati come dire a verificarci a guardare quello che combiniamo e vedere se fa bene o se fa bene o se non fa tanto bene alle anime e eventualmente poi fare la mia colpa e rettificare perché nessuno non l'ha imparato devono farlo anche i genitori questo qui senza paura anche questo è proprio dell'essere liberi perché essere liberi è anche accettare di fare i conti con i propri errori cioè le anime buone concludo generalmente non fanno i peccati perché per fare un peccato non deve essere cattivo il peccato è caratterizzato dalla malizia cioè tu sai che stai facendo una cosa fatta male e la fai lo stesso quello è il peccato ma molte volte spessissimo come detto all'inizio uno pensa di fare il bene ma purtroppo ha fatto male e si deve correggere se è una persona matura libera non ha complessi ha superato le ferite le difficoltà altro ciclo ancora di catechesi che è quell'altro faccio sempre gli spot pubblicitati quindi dal non senso alla vita di cielo è qui che si affrontano questi nodi ma so sbagliare e rettifichiamo dovrò anche chiedere scusa si chiede scusa anche per gli errori di guarda figlio mio io pensavo di aver fatto bene e purtroppo ho fatto male credimi io pensavo di fare il tuo bene me ne so accorto che purtroppo ho fatto il male perdona perdona l'errore potevo pensarci prima potevo pensarci meglio sicuramente era tutto possibile ecco ma non l'ho fatta apposta ecco però per fare questo bisogna camminare in conversione continua allora chiudiamo con la conclusione della lettera alza riprendi con te il bambino e sua madre dice Dio a San Giuseppe lo scopo di questa lettera apostolica è quello di accrescere l'amore verso questo grande santo per essere spinti ad implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il suo snage infatti la specifica missione dei santi è non solo quella di concedere miracoli e grazie questo è un altro punto molto molto importante ma di intercedere per noi davanti a Dio come invece l'Abramo e come Mosè e come la faccia unico mediatore che è presso Dio Padre e il nostro Avvocato sempre io per intercedere il nostro favore ma i santi aiutano anche tutti i fedeli a perseguire la santità e la perfezione del proprio stato la loro vita è una prova concreta che è possibile vivere l'angelo cioè i santi non si invocano solo per i miracoli i santi sono i nostri intercessori ordinari e sono soprattutto esempi di vita con ricontemplare la figura di San Giuseppe significa imitarlo le cose che ci siamo detti questa sera tutte le persone che hanno autorità e che si prendono cura di qualcuno ci devono pensare ebbene e tanto e se c'è qualcosa da correggere da cambiare devono fare pure le corsa a contatto con l'esempio della santità no? ecco Gesù ha detto imparate da me che sono umili e dumine di cuore ed essi a loro volta sono esempi da imitare San Paolo è esplicitamente esortato diventate i miei imitatori e non era superbo aggiungo io San Giuseppe lo dice attraverso il suo loguente silenzio diventate i miei imitatori davanti all'esempio di tanti santi e sante Sant'Agostino si chiese ciò che questi e queste hanno voluto fare tu non lo potrai? e così approdò la conversione definitiva esclamando tardi ti ho amato ho bellezza tanto antica e tanto nuova non resta che implorare da San Giuseppe la grazia delle grazie sia la nostra conversione e quindi concludiamo con la preghiera con cui termina questa lettera noi divulgiamo la nostra preghiera questo ciclo di catechesi finisce qui poi vedremo se è il caso quest'anno di San Giuseppe riaprire qualche altra pista di riflessione sul più santo dei santi grazie per chi ha avuto la pazienza di seguirla fino alla fine questa catechesi magari anche tutte le altre affidiamola al Signore se qualcosa di buono è sceso nelle anime se ne ringrazi sempre e solo lui non gli strumenti nemmeno il Papa tanto lui è contento se dico questa cosa meno che mai il sottoscritto perché sia sempre tutto a lode e gloria di Dio solo Dio vi benedica a tutti e la Madonna vi protegga se ci sarà alla prossima serie di catechesi sul più santo dei santi a presto